allora nuova location nuova recensione in queste ac questa è la quarta puntata di da bau io sono nicolò questa appunto è la quarta recensione cambia sempre location e voglio provare a fare una recensione sono consigli di lettura fosse una recensione dove anche scrivere che non sto scrivendo sto parlando dovrei parlare anche di cose che non mi sono piaciute non è una cosa che farò l'ho già detto nel primo video ogni tanto continuo a ripeterlo comunque diciamo che l'idea è quella in queste prime dieci puntate perché farò sicuramente dieci puntate poi vediamo se la cosa ha un senso oppure no voglio parlare anche genere diverse cose diverse per cui tutto questo per dire che oggi parliamo di un romanzone romanzone che è questo furore di john steinbeck ovviamente non è questo perché il libro in questo momento qui vedete però c'è anche titolo originale il libro in questo momento l'ho prestato a mia mamma quindi lo sta leggendo lei non glielo ho richiesto provo a far subito la recensione casualmente messaggio promozionale va bene torniamo a noi il libro che di cui parliamo è john steinbeck è furore di john steinbeck un grande classico quindi quello di cui voglio parlare in questa puntata è un grande classico della letteratura uno di quei libri che fanno parte del corso sonorum dei lettori insieme a moby dick insieme a adesso non voglio citare libri perché sicuramente ne dimenticherei qualcuno e non andrebbe bene però veniamo a noi furore john steinbeck grande scrittore americano vincitore con questo libro del premio pulitzer quindi un riconoscimento molto importante e vincitore comunque anche del nobel per la letteratura quindi parliamo di un grandissimo scrittore ci sono alcune curiosità riguardo a questo libro intanto lui l'ha scritto in dieci in 100 giorni 100 giorni sono veramente pochi per scrivere furore e non nascondo un pelo di invidia però evidentemente aveva le idee molto chiare e si vede sì 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 leggendo si capisce l'altra cosa è un libro che noi fino a undici anni fa quindi fino al 2013 abbiamo potuto leggere solo in una traduzione risalente a il periodo della del poco dopo la pubblicazione perché in italia è arrivato l'anno dopo quindi è arrivato subito in cui però c'erano molti tagli e c'era una forte ingerenza da parte del governo fascista per cui diciamo che fino a undici anni fa quello che abbiamo potuto vedere noi potuto leggere noi era una versione edulcorata poi non sono abbastanza documentato per dire in quali punti fosse edulcorato o meno comunque la trama la trama siamo allora nel periodo della grande depressione degli stati uniti e il libro racconta la migrazione di una famiglia dall'oklaoma fino alle coste dell'ostremo occidente quindi dalla california il new messico quelle zone lì alla ricerca di lavoro quindi grande depressione c'è una riorganizzazione socio economica di tutto quanto il tessuto americano accadono delle cose per quel che riguarda chi si occupa dell'agricoltura soprattutto il mondo legato all'agricoltura cambia radicalmente forma cambia radicalmente struttura e questo impatta sulle sulle famiglie impatta sulle famiglie tant'è che si rende necessario per molte famiglie dell'oklaoma che diciamo avevano in gestione delle terre coltivavano le terre si rende necessario emigrare attratte appunto dalla possibilità di lavoro sulle coste dell'est nello specifico si fa molto riferimento alla alla california quindi al viaggio di questa famiglia una famiglia durante il viaggio accadono molte cose un viaggio molto complesso con un leggero filo di speranza che subisce costantemente dei colpi dalla dalla vita e una fiammella appunto che va via pian piano sempre più affievolendosi e spegnendosi e questo è un po il il racconto quindi diciamo che è un romanzo con una forte valenza storica su questo ci sono poi ha scatenato tante critiche ci sono stati si trova facilmente su su internet diversi ricercatori che hanno ripercorso e studiato un po quello che ha raccontato Steinbeck e che arrivano alla conclusione che quello che racconta lui in realtà non è vero che è fortemente romanzato ci sono esattamente lo stesso numero di critici che hanno fatto lo stesso tipo di ricerca e sono arrivati a conclusioni diametralmente opposte questo per dire che in tutte le epoche storiche si può arrivare a una conclusione o un'altra quindi dobbiamo sempre fare attenzione a cosa andiamo a leggere alle fonti all'importanza di quello che leggiamo e andare a capire e cogliere la credibilità di chi ci sta dicendo qualcosa ma non voglio parlare qui di fake news internet e tutto ciò che è difficile capire di questa società in cui viviamo voglio ritornare a furore per dire che appunto ci sono state molte critiche devo imparare a parlare più lentamente e appunto perché c'era chi dopo diceva che questo viaggio raccontato dall'Oklahoma fino alla California in realtà è quasi totalmente romanzato e inventato c'è chi invece dicevano no erano vicissitudini che succedevano poi ovviamente all'interno di un romanzo quindi diciamo che quanto normalmente poteva accadere a quattro cinque famiglie probabilmente Steinbeck l'ha condensato tutto in una in una sola famiglia però non stiamo parlando di cose che non accadevano e questo per quel che riguarda la trama ovviamente per chi è questo libro per tutti perché è un libro estremamente accessibile nella scrittura anche se il livello della scrittura qui è molto molto alto nel senso che lui riesce a essere spero di spiegarmi riesce a essere estremamente coerente nella scrittura rispetto a quello che racconta cioè la scrittura è molto coerente e molto calata nella storia che sta raccontando non è una scrittura che arriva dall'alto non è un occhio che racconta ma è una scrittura che viene da dentro e lui riesce a calarsi molto bene in quella realtà ed è estremamente efficace faccio una premessa dopo sette minuti rotti di video faccio la premessa non è il mio genere come dicono quelli così not my cup of tea non è propriamente il mio genere anche se sono stato cinque minuti prima di fare questo video a chiedermi perché dici che non è il tuo genere non lo so fino in fondo però non ho la percezione che sia un genere che mi appartiene però qui siamo di fronte a un capolavoro un capolavoro nella scrittura nel raccontare una storia che comunque è la storia degli stati forse perché in questo momento qui non vivo un gran momento di di fascino da parte degli stati uniti forse per quello è il mio momento con gli stati uniti che mi allontana un po da questo genere qui però non lo so vabbè non è importante questo torniamo una grandissima storia con grandissimi personaggi e con una capacità narrativa ragazzi incredibile sono più di 600 pagine 630 pagine ma con una capacità di scrittura fuori dal mondo qui siamo veramente di fronte a un premio nobel un premio pulizzer e poi secondo me avrà vinto sicuramente anche degli altri premi importanti che adesso non cito quindi un libro molto importante e molto bello molto importante nella scrittura uno dei libri ricordo ma non mi ha raccontato una volta uno dei libri comunque intanto un quotidiano francese l'ha inserito nei 100 libri più importanti del secolo scorso al settimo posto ed essendo un quotidiano francese probabilmente tante tanta francia c'era in quella classifica però lui arriva settimo e comunque un libro che trovate sempre in tutte quante librerie è sempre assortito è sempre presente perché è un libro imprescindibile perché leggerlo al di là di tutto quello che vi ho già detto cioè uno fa curriculum se siete i lettori perché questo è uno di quelli ah sì ho letto furono ma come non hai letto furono uno fa curriculum due da un punto di vista della storia comunque cattura molto perché le vicende questa trasmigrazione dall'oklahoma e le vicende di questa famiglia catturano e fanno stare proprio col fiato col fiato sospeso nel senso che ti portano a voler sapere ti portano a voler superare l'ennesimo ostacolo quindi è molto ti cattura molto adesso un sinonimo di cattura non sono Steinbeck quindi non mi viene terzo perché è scritto divinamente cioè la scrittura è una lezione quarto perché vacaboya ci può dire vacaboya si potrà dire vacaboya leggendo hai la sensazione che non stai leggendo qualcosa di totalmente diverso a una realtà che sta a pochi metri da noi forse questa è una caratteristica dei capolavori della letteratura e cioè il loro essere costantemente attuali perché dietro a una storia in realtà c'è il genere umano c'è la società umana c'è le caratteristiche di noi esseri umani di netto non l'ho detto quindi qui ritrovate tante cose che appunto sono anche sotto il nostro sguardo oggi è difficile non riconoscere in quello che succede alla famiglia protagonista di questo racconto mille cose che possiamo leggere sui giornali e che ci rifiutiamo di vedere girandoci dall'altra parte comunque non voglio andare avanti oltre perché sono già lunghissimo questo non è furore perché come ho detto in apertura l'ho prestata a mia mamma e adesso ce l'ha lei ma io volevo fare questo video John Steinbeck sotto c'è anche il titolo originale leggetelo perché questo è veramente uno di quei libri che bisogna fare lo sforzo di leggere portare un po' di pazienza all'inizio perché comunque è una scrittura che ha ormai quasi 80 anni quindi bisogna portare un po' di pazienza all'inizio empatizzare con questo tipo di scrittura ma poi dopo non vi molla più grazie